Welcome, io sono Miss Famesa Peh, sono felice di averti qui, alla fine del video non mancare di vedere una piccola sorpresa, la passerina ha cinguettato che tra storie d'amore che nascono, altre che finiscono, discussioni sempre più accese, le chiacchiere dicono che Giulia Salemi, e Pierpaolo Pretelli sono in crisi, Pierpaolo rompe il silenzio, ecco perché, per scoprire cosa è successo, guarda il video completo, ciao ciao Giulia Salemi nell'ultima puntata si è confidata con Alfonso Signorini, Alfonso voglio essere onesta, io e Pierpaolo stiamo vivendo una crisi, questo può accadere a tante coppie come noi, però voglio precisare che non ci sono state liti con piatti volanti e che non si sono stati tradimenti, in questo momento non è certo in discussione il nostro sentimento, però vogliamo capire come stanno andando le cose e che direzione prenderanno, chiedere la privacy è difficile, visto che il nostro legame è nato qui al GF VIP sotto l'occhio attento delle telecamere, passeremo questo 14 febbraio da separati, a dire la verità io domani sarò con te a Napoli. Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio e risponde su Twitter, grazie a tutti per aver speso un attimo per farci arrivare tanto amore, la scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news, non ci nascondiamo, ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia, senza pressioni. Amica, o amico sono soltanto voci, bisbigli, rumoreggi, voci di corridoio, non c'è niente di sicuro e del domani non c'è certezza, a presto con nuove anticipazioni, news, indiscrezioni, un saluto da Miss Femesepe, e ora pubblicità che fa bene al cuore, mi hanno detto che se faccio vedere la mia topina tu mi metti un like, vediamo. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao ciao. Ciao amica, o amico, ti va di guardare altri video clic sul filmato scelto, se ami il gossip in social noi pubblichiamo video tutti i giorni, è stato un piacere averti qui, torna a trovarci, ti aspettiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.